Punto d'incontro, la fiera dedicata al lavoro, alla formazione e all'orientamento, che si è tenuta a Pordenone il 5 e 6 novembre, ha l'obiettivo di offrire ai giovani, alle imprese, agli adulti alla ricerca di un lavoro e al sistema formativo, un'occasione di incontro e di conoscenza reciproca. Presente è anche l'informa giovani del Comune di Pordenone. In questa edizione di punto d'incontro il Comune di Pordenone è presente con uno stand dove vengono illustrati le attività svolte da Informa Giovani e dalle politiche giovanili del nostro Comune. Informa Giovani ha cambiato sede, adesso è nell'ambito dell'ex convento di San Francesco, quindi una ubicazione molto più centrale per cui riuscirà a dare ancora un servizio migliore di quanto non sia stato quello ottimo svolto finora. In questa occasione della presenza di punto d'incontro è solo un momento di veicolazione dell'attività, ma anche di servizio nei confronti dei cittadini in generale e dei più giovani in particolare con cui crediamo di essere in sintonia. Informa Giovani è un servizio comunale attivo da oltre 20 anni e siamo qui in fiera proprio per far sì che tutti i ragazzi vengano a conoscenza di quello che viene fatto nel nostro ufficio. Nel nostro ufficio tendenzialmente vengono rilasciate informazioni su ogni genere di cose, su ogni genere di richieste, non solo per ragazzi, per persone di tutta l'età e tendenzialmente ci occupiamo di lavoro, tempo libero, cultura, di eventi culturali, di turismo, di tutte quelle cose che possono comunque interessare una fascia di popolazione che non trova risposta in altri servizi. Siamo, come dicevo, a disposizione di tutti, è un servizio comunale ed è gratuito, chiunque può venire negli orari di apertura a trovarci, siamo disponibili al pubblico anche su appuntamento e comunque siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 16 e dalle 15 alle 18, con l'eccezione del mercoledì nel quale l'orario è continuato dalle 10 alle 16.